Ed eccola qui la nuova Audi Q3, una vettura che nasce per andare a ristabilire l'ordine all'interno delle SUV del brand di Ingolstadt in particolar modo nella parte bassa dove l'attuale generazione della Q3 forse era un po' troppo vicina alla Q2 e un po' troppo distante dalla Q5. Questa è lunga 4 metri e 48 e 10 centimetri più lunga rispetto al passato ma soprattutto è molto diversa da un punto di vista estetico. È basata innanzitutto sulla piattaforma MQB e questo ha permesso di stampare delle lamiere con delle nervature estremamente profonde ma magari quello lo vediamo più tardi. Quello che mi piace è come il centro stile diretto da lì che ha rivisto completamente il profilo del gruppo ottico andando ad estenderlo anche qui nella parte bassa ha completamente rivisto lo stile della parte luminosa ma soprattutto ha giocato in modo profondo con la luce e questo l'ha fatto sia da un punto di vista di carrozzeria, vi invito anche a notare questa bella nervatura che corre sul cofano questo per dare un'idea di maggior sportività e di compattezza ma soprattutto anche qui nella parte bassa dove il paraurti come vedete tende a dare diversi riflessi in base alla posizione della luce è stata completamente rivista anche la calandra single frame con degli elementi verticali che vanno ad alternarsi gli elementi orizzontali, quelli verticali sono cromati come è cromato anche il badge dell'Audi per quanto riguarda i sistemi di autoguida ma anche di quello ne parleremo dopo abbiamo il radar di distanza è abbastanza ben integrato allo stile della calandra più che altro perché è posizionato in basso un'altra cosa che vi faccio notare è come in questo caso la presa d'aria della versione Advance sia decisamente meno sportiva rispetto a quella della S-Line è una Q3 che cambia radicalmente rispetto al passato come vi dicevo un po' perché è basata su una piattaforma completamente diversa ma anche perché arriva con tre tipologie di allestimento diverse la prima è appunto base, la seconda è Advance e la terza è S-Line questa è l'Advance un po' più elegante rispetto all'S-Line ma comunque tende a sottolineare un'idea di sportività che in passato non c'era rispetto alla Q3 precedente è più larga di 18 mm, siamo 1,84 m, è più bassa di 5 mm per cui tende a dare anche in questo caso un'idea di maggior sportività 1,58 m ma soprattutto sono 2,68 m di passo per cui anche la misura del passo è aumentata di 78 mm a tutto vantaggio dello spazio a bordo vi invito a notare come le profonde nervature tendono a solcare anche qui la zona posteriore il passaruota tende ad allargarsi proprio per dare anche in questo caso un'idea di maggior postanza, di maggior larghezza, di maggior presenza su strada come maggior presenza su strada tende a donarla questo gruppo ottico riprende un po' lo stile del frontale con la goccia che tende ad allargare verso il basso ma anche lo stile della parte luminosa direi che la ricorda molto per quanto riguarda il bagagliaio andiamo ad aprirlo apertura elettroattuata, ci sono 530 litri di vanno utile che possono diventare 675 muovendo di 15 cm in avanti la fila di sedili posteriori che ovviamente si possono abbattere in modalità 40-20-40 MQB significa anche installazione trasversale dei motori si traduce anche nella possibilità di montare diverse unità si parte dalla 35 TFSI quindi il 1500 turbo benzina 150 cavalli 250 Nm di coppia poi si sale al 2000 turbo benzina 40 TFSI 190 cavalli 320 Nm per chi vuole il massimo c'è anche il 45 TFSI con 230 cavalli e 350 Nm di coppia massima volendo c'è anche il turbodiesel 2000 con 150 o 190 cavalli in questo caso abbiamo 340 o 400 Nm di coppia massima sono motori che possono essere abbinati a partire da 190 cavalli in su con la trazione integrale per tutte è disponibile il cambio S-tronic mentre per le versioni meno potenti è disponibile anche il cambio manuale tra gli allestimenti anche per quanto riguarda gli interni base Design Selection S-Line Interior in questo caso siamo al top di gamma abbiamo un interno veramente molto ben fatto i materiali sono di buona qualità bello l'alluminio con led che corre dentro e poi mi piace anche questa maniglia AL rovesciata che serve ovviamente per aprire la porta mi piace anche la zona centrale con questo camoscio con cucitura tono su tono e anche bella la maniglia con questa finitura in plastica devo dire che come design questa vettura ha qualcosa di nuovo rispetto al passato per quanto riguarda il sedile regolabile in profondità come vedete si può regolare attraverso la regolazione manuale è abbastanza ampio le sponde sono abbastanza alte ma mi piace anche qui la combinazione tra i materiali lo vedete anche qui camoscio con la pelle cucitura tono su tono da una parte e a contrasto dall'altra salgo a bordo vi faccio vedere come è fatto all'interno viene utilizzata l'ultima tecnologia ovviamente del gruppo con un bel display da 10 pollici qui al centro con il sistema di navigazione di ultima generazione gira già Hear Maps sotto ma l'interfaccia diciamo che riguarda la parte Google Earth è ancora riservata a Google abbiamo tutti i sistemi ovviamente di multimedialità possibile immaginabile Apple CarPlay, Android Auto e poi abbiamo anche un sistema di attivazione vocale direi piuttosto preciso l'ho provato prima e funziona molto bene c'è ovviamente l'Audi Virtual Cockpit anche qui versione a top di gamma nelle allestimenti standard rimane comunque digitale ma è meno completo rispetto a questo il design della plancia riprende altri prodotti Audi lo vedete è multilivello la parte superiore integra le bocchette dell'aria mentre quella centrale tende ad emergere rispetto a tutta la plancia stessa con la zona centrale che sembra essere scavata da una lama all'interno del quale è installato questo display da 10 pollici è completamente scomparso invece il comando del MMI è rimasto solamente il comando per il volume della radio si può cambiare frequenza si può alzare il volume mentre a livello di tasti è rimasta la parte della climatizzazione è quella riservata ai driving mode anche con i comandi di parcheggio driving mode che possono comandare vi faccio vedere anche le sospensioni della vettura attraverso i sistemi di drive selection direi un interno quindi molto tecnologico ma che ha guadagnato molto spazio anche dietro andiamo a vedere uno dei segreti che permette a questa Audi Q3 di passare da 530 litri a 675 per poi ampliarsi fino a 1525 è la possibilità di far scorrere di 15 cm lo vedete il divanetto questa è una regolazione manuale volendo è possibile anche andare a regolare l'inclinazione lo vedete dello schienale in 7 posizioni nella precedente versione non si poteva regolare in profondità si poteva solamente regolare lo schienale però in 3 posizioni vi faccio vedere anche come si sta a bordo il sedile anteriore è regolato sulla mia posizione ho abbastanza spazio per le gambe lo vedete la vettura è piuttosto comoda e ha anche molto spazio per la testa qui nella zona centrale troviamo le bocchette della reazione una presa 12 volt due prese USB non USB-C ma USB standard e poi un tunnel centrale che è abbastanza evidente nella dimensione ma comunque non è molto grande rispetto ad altre produzioni che abbiamo visto recentemente una delle feature di questo interno è anche la possibilità di andare a frazionare come avete visto prima nella parte del bagagliaio in 40-20-40 volendo c'è anche il bracciolo con due porta lattine chiudo questa preview dell'Audi Q3 mostrandovi anche la variante di carrozzeria S-Line la vedete subito perché la parte bassa è più aggressiva rispetto all'Advanced che abbiamo visto di là quella grigia bello anche questo colore blu non so se in Italia funzionerà ma comunque dal vivo è veramente bellissimo abbiamo visto potenze da 150 a 230 cavalli sono sicuro che nel corso del 2019 possa arrivare anche un motore 1.7Di anche perché questo segmento richiede potenze a partire da 110 cavalli e sopra per cui sicuramente è una vettura interessante una vettura che può dire la sua all'interno del segmento C-SUV una vettura che rivoluziona direi in modo sostanziale il design Audi portandolo nel futuro con questo è tutto non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube su Facebook e naturalmente su automoto.it ciao grazie a tutti